Falsificavano assegni che poi cercavano di incassare nelle banche dell'Ossola. Denunciate dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Domodossola quattro persone, due residenti in provincia di Bergamo e altri due di Brescia. L'indagine era partita dalla segnalazione di alcune banche, dove i malviventi avevano cercato di incassare assegni contraffatti. I militari del capitano Davide Lazzaro hanno ricostruito il sistema messo in atto per truffare ignari correntisti. I quattro falsificavano infatti assegni intestati a residenti della zona Domese e destinati sempre alla stessa società con sede a Milano, risultata poi fantasma. I pagamenti ai quali si riferivano gli assegni riguardavano servizi mai richiesti. Dalle indagini è risultato che al ritiro dei soldi si presentavano sempre i quattro che poi scomparivano dopo aver incassato la somma. Il gruppo operava a distanza, falsificando e duplicando abilmente le matrici degli assegni dignari residenti nel nord Italia, mettendoli all'incasso in varie filiali bancarie del Piemonte e dell'Emilia Romagna. Tutti e quattro sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria per associazione delinquere finalizzata alla truffa. Si tratta di SM di 67 anni, ST di 49 anni, entrambi residenti in provincia di Bergamo, CV di 61 anni e Z di 51 anni, questi ultimi residenti in provincia di Brescia, tutti con precedenti specifici per lo stesso tipo di reato. Si tratta di vari assegni del valore ciascuno di 3 o 4 mila euro.